Le donne a Ferragna sicuramente posso dire che venivano trattate dal punto di vista lavorativo al pari di un uomo. All'inizio soprattutto nel laboratorio ricerche sia neolaureate nuove appunto nell'ultima tornata di assunzione grossa di neolaureati avevano assunto forse più donne che uomini in quegli anni lì, negli anni 90. Quindi c'è stato il primo ingresso, non dico massiccio però abbastanza determinante di donne appena laureate, quindi che più o meno avevano la mia stessa età. E poi all'interno dei laboratori invece c'erano queste figure materne che invece avevano lavorato lì una vita e quindi ricoprivano dei lavori molto operativi ma erano molto esperte e ci hanno comunque tramandato la parte più operativa, tecnica di questo lavoro di cui noi non avevamo competenza ovviamente. Potevamo avere delle conoscenze teoriche che loro non avevano ma la parte pratica di come si prepara una soluzione, di come si sviluppa, di come si leggono i provini nei vari test sensitometrici che venivano fatti e quindi ce le insegnavano poi loro. Nel 1996 è entrata i Mation, cioè 3M ha deciso di scorporare la parte fotografica che evidentemente non interessava più a questa multinazionale, ha creato una società satellite che era i Mation, che era ancora multinazionale, era ancora americana, però sono entrati in quel calderone tutti i settori a cui la 3M che non interessavano più. Quindi già lì c'era una certa percezione che comunque si stesse andando verso un periodo di decadenza, anche se all'inizio questa entrata di Mation era stata vista, non dico con entusiasmo, però come semplicemente una scissione. Dopo un po' di tempo ci si è resi conto, perché? Perché già i laboratori di ricerca erano in restrizione, i progetti erano molto più piccoli e molte persone venivano spostate ad altre attività, quindi non c'era più tutta quella ricerca che era invece molto viva quando sono entrata io, dopo 5-6 anni eravamo già in clima di restrizione. In quel periodo lì, ancora nella fase di ricerca, io sono passata dalla ricerca pura al gruppo di quality assurance, cioè assicurazione e qualità. Diciamo che anche l'aspetto qualitativo, la qualità era tenuta in considerazione, soprattutto per questo imprinting degli americani, eccetera, eccetera, dove qualità e consistency erano due parole molto gettonate, su cui ci si puntava molto. Avevano costituito questo gruppo di quality assurance che in generale doveva occuparsi dello studio dei metodi di controllo di questi prodotti che andavano poi in produzione, perché dalla ricerca e sviluppo c'era poi la fase di industrializzazione e di produzione. Gli ultimi 5 anni, dagli anni 2000 al 2006, quando io poi ho deciso di andarmene, sono stati anni abbastanza duri, in quanto proprio lì era, soprattutto dopo il 2002, ecco 2002, negli anni 2000 ancora, anche subentrando Ferrania Imaging Technologies, c'era ancora comunque una certa liquidità, le cose fluivano ancora abbastanza bene, io ero servizio tecnico molto spesso, facevamo degli spostamenti proprio in assistenza tecnica per visitare gli ospedali, per vedere appunto come performavano i nostri prodotti, soprattutto intervenivamo se c'erano problemi di utilizzo dei prodotti, reclami dal cliente, settaggio comunque di tutto il sistema, eccetera, eccetera. Poi iniziano le restrizioni, cioè si viaggia sempre meno, si fanno meno corsi di formazione, ci sono meno contatti anche con l'esterno e in quel periodo succede una cosa molto pesante che sarà poi l'inizio della fine, cioè il medicale viene venduto, parte del medicale, con anche parte di comunque personale, viene venduto alla Kodak, noi produciamo pellicole ma a nome Kodak ancora per un tot di anni, finisce il contratto con la Kodak e quindi tutta la parte di produzione medicale praticamente finisce e rimane già, diciamo che i reparti rimangono quasi in esubero, quindi inizia il discorso della cassa integrazione, poi inizia il grosso periodo di capire che cosa succede, perché ci doveva acquisire prima un gruppo indiano, poi c'era questa accordata di industriali in pratica della Liguria che sembravano interessati, periodo di agitazioni sindacali, cioè un giorno andavamo a bloccare l'autostrada, al giorno dopo andavamo in stesa a stendere, quindi è stato un periodo difficile e duro.